Il mio nome è Alitia. La mia è una storia vera. Mi piace molto passare il tempo da sola. Non ho figli, né fratelli, né genitori. Una volta ho avuto un marito. Se il destino esiste, chi può dirlo? Un giorno al Gran Bazar di Istanbul, ho scelto un souvenir. Mi piace, non so cos'è, ma la sua storia deve essere affascinante. Qual è il tuo desiderio? Sono ai tuoi ordini. Avrei una domanda. Che ci fa uno con tre desideri? Lo vedrai. Potrei desiderare di non averti mai incontrato? Non dire così! E prima il tuo desiderio! Salva te stessa! Ho un desiderio. Resterà qui per un po'. Salve! Avivato! Dove vi ottissimo! L'unico dei migratori! Vimato! 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 Cosa. Vimato! Grazie a tutti.